pinocchio si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano e più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata a quella vista il povero pinocchio ebbe un'allegrezza così grande così inaspettata voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mogulava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciare fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare o bambino mio finalmente vi ho trovato ora poi non vi lascio più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero ripricò il vecchietto stropicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mi caro pinocchio sì sì sono io proprio io e voi mi avete già perdonato non è vero o bambino mio come siete buono un piccolo brano delle avventure di pinocchio e voi direte è lo spirito che c'entra lo spirito è avventura è avventura della nostra vita è lui che spinge provoca conduce ci lascia persino immersi in situazioni pericolose è avventura è lui che inventa incontri che ci fa incontrare pinocchio dopo mille avventure ritrova il babbo anche noi siamo alla ricerca del padre non vi lascerò orfani ci rassicura gesù ecco giusto abbiamo bisogno di non esserlo papro francesco proprio oggi fantastico dice è lo spirito che ci porta al padre che ne traccia la via insegna la via per arrivare a lui metti segni è avventura la nostra vita come quella di pinocchio e già la nostra vita mossa dallo spirito per un incontro che avventura ecco se non ricordate il finale dell'avventura di pinocchio andate a rileggerlo ritroverete l'avventura più bella ciao